carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza avvincente ed entusiasmante della dottoressa gloria polo e mi ricordo se questa dovrebbe essere la sesta la settima puntata ci siamo fermati la volta scorsa con una bellissima a mio avviso puntata dove gloria ci ha parlato dei sacerdoti dell'eucharistia della sua prima comunione e di tante cose belle oggi purtroppo dobbiamo aprire il capitolo dove cominciano le dolenti delle dolenti note della svolta dei suoi 13 anni quello che è successo a gloria come sovente accade purtroppo quando si arriva all'età adolescenziale è l'inizio della discesa che poi l'avrebbe portata a quella vita diciamo così di lontananza da dio che l'avrebbe posta in uno stato che sappiamo insomma quale è quello che poi ci racconterà io non vorrei dilungarmi come sempre troppo ma procedere quanto prima cioè da subito alla lettura allora la svolta dei miei 13 anni mi trasferisco a bogota ero come detto una bambina di preghiera recitavo il rosario della vergine maria e partecipavo volentieri alla celebrazione eucaristica rimanendone incantata nel mio cuore non covavo alcun rancore per nessuno ero felice non ero mai stata discriminata per la mia povertà anzi mi sembrava di stare meglio di tanti altri miei compaesene di hobo dipartimento di quilia colombia che il terremoto del 9 febbraio 1967 avente epicentro in neva aveva duramente provato quando però nel 1971 all'età di 13 anni mi trasferì con la mia famiglia nella metropoli di bogotà e iniziai a frequentare un nuovo prestigioso collegio cattolico con obbi fin da subito le prime umilianti discriminazioni da parte delle mie compagnie ricche il primo giorno di scuola le mie compagnie vestivano tutte un uniforme scolastica immacolata calzavano scarpe nuove e portavano uno zainetto sulle spalle io mi sono presentata calzando scarpe di quinta generazione ed indossando uniforme vecchia prestatemi da mia cugina non avevo uno zainetto ma portavo una busta di carta appesa sulla spalla sinistra che conteneva una bottiglia di olio un brick di latte un panino e una banana e avevo un quaderno sotto la scella destra venni immediatamente additata dalle mie compagne come la capovera campagnola indegna di frequentare il loro collegio all'apice dell'esternazione del disprezzo giunsero addirittura ad appiccicarmi la gomma da masticare le trecce a tirarmi addosso il gesso a gettare via i miei quaderni che mio papà mi aveva comprato a costo di tanti sacrifici mentre questo triste spettacolo si ripresentava davanti a miei occhi la voce meravigliosa annotò nel libro della vita il nome dei genitori di ognuna di queste bambine e gli udì dire non avete insegnato alle vostre figlie ad avere amore e bontà e misericordia con i poveri e i bisognosi ora le vostre figlie sono diventate le assassine della mia piccolina assassine della mia anima non occorre uccidere fisicamente per essere omicidi anche chi fa morire di vergogno e di dolore anche chi porta le anime alla disperazione per azioni che levano loro pace e fede e onore e stima sono omicidi dei fratelli è inoltre come se tentassero di uccidere Dio in una nuova crucifissione perché Dio è nei fratelli i fratelli sono in Dio di cui sono figli come tutti sono come tutti i decidi sono anch'essi dei morti io ero dunque morta non solo nel senso che ero molta offesa l'anima che non muore per morte fisica essendo immortale può ben morire se si recide dal seno del suo signore l'odio che io iniziai a provare nei confronti delle mie compagne fu il coltello che recise il legame col signore e la mia anima separata da Dio morì l'essere però considerata la reglietta la disprezzata e l'isolata del collegio era solo l'inizio dell'azione demoniaca a Bogotà contro di me il mio demonio custode non si accontentava di vincere alcune battaglie dalle quali risorgevo per il mio ricorso alla confezione sacramentale ma voleva vincere la guerra caporrandosi definitivamente la mia anima doveva perciò riuscire a indurmi ad abbandonare la confessione sacramentale ecco questo è un passaggio è uno svolto è un momento fondamentale lo commentiamo un attimo insieme perché evidentemente merita soprattutto il commento della della voce allora vedete la cattiveria dei ragazzini può andare a rovinare il prossimo penso che molti di noi io ricordo bene di aver visto scene di questo genere quando ero giovane e di aver visto anche gli effetti devastanti che hanno prodotto in alcune anime e vedete come però questo è un mio pallino ma è un pallino ovvio il santo curato d'Arso l'ho letto l'altro giorno sempre perché l'ho citato nel testo appunto che stavo pubblicando che stiamo adesso revisionando sui dieci comandamenti proprio peccati di lingue quindi le omelie sulla maldicenza il santo curato d'Arso suonava di brutto sulle responsabilità dei genitori la voce si rivolge ai genitori di queste bambine rimproverandoli non avete insegnato alle vostre figlie ad avere amore e bontà e misericordia con i poveri e i bisognosi ora le vostre figlie sono divenute le assassine della mia piccolina perché? perché caricare il disprezzo è già una devastazione però quando una persona è caricata di disprezzo reagisce poi con l'odio specialmente quando è piccolina e l'odio separa l'anima dal Dio e come qui si spiega l'ultimo step del diavolo quindi attraverso le provocazioni la vita è piena di queste cose è separarla dalla confessione capiamo come anche le dinamiche dell'esistenza ecco perché Gesù dice sempre che non dobbiamo dice come dire perentorio non giudicate perché è chiaro che dietro tante situazioni tante cadute ci possono stare dinamiche che noi non conosciamo certo però come vedremo il fatto che ci siano purtroppo queste situazioni che il diavolo sfrutta sempre a suo vantaggio non ci esime però dalla responsabilità morale e personale perché gloria a voi di quel nugolo di peccati che piano piano avrebbe cominciato a commettere è chiamata a risponderne quindi attenzione a non crogiolarsi è una situazione diffusa nell'autocommiserazione ma io ho tanto ferire ma io mi porto dietro tante situazioni e quindi è normale che faccio così e però non si converte mai e non si corregge mai attenzione a non cadere in questi circoli in questi patterns distruttivi proprio di tossici verenosi di morte bene proseguo la mia mancanza di perdono verso gli altri l'esperienza della discriminazione subita nel collegio fu una prova delle mie virtù ancora infantili invece di approfittare dell'occasione per inrobustirle le affievoli nel rancore questo esito non era scontato sarei stata beata se avessi resistito alla tentazione che proviene sempre e solo dalle passioni umane e non da Dio considerato perfetta letizia no considerate no qui c'è un errore leggo un attimo il testo qui si testi non troppo ben allora qui c'è una situazione di Giacomo però applicata a lei personalmente allora avrei dovuto considerare perfetta letizia il subire ogni sorta di prova sapendo che la mia fede messa alla prova avrei provato pazienza e la pazienza avrebbe completato l'opera di Dio in me facendomi perfetta e integra senza mancare nulla questa è una citazione libera applicata alla persona della lettera di Giacomo 1,2,3 se avessi fatto questo avrei messo in pratica in fin dei conti l'insegnamento esemplare di mia madre mi feci invece sempre più rassomigliante a mio padre anzi da imitratrice di mia mamma mi convertì nell'imitatrice di mio padre spietato e maldicente divenendo col tempo la figlia che maggiormente gli rassomigliava non perdonavo le offese ricevute e avevo preso la sua abitudine di sparlare dei miei nemici con lui quanto gli piaceva accomodarsi in veranda e tra una tirata di sigaretta e una sorzata di aguardiente ascoltare le mie maldicenze e sparlare del suo parroco a volontà conoscendomi bene questa sua abitudine la utilizzavo anche per farmelo alleato contro la mamma quando la mamma proponeva a noi figli di recitare insieme il rosario io che non volevo più essere considerata la mattarella di casa tutta visione e devozione laizzavo contro il mio padre papà aiuto questa mamma pallosa ci vuole far recitare il rosario pallosa l'ha detto lei l'ho detto io e lui prima della sua conversione la retarguia con asprezza e lascia in pace sti ragazzi ma piuttosto a infidarti sotto la sottana dei tuoi preti che ci stai tanto bene mio padre non si limitava a sparlare delle pecche dei sacerdoti pecche comuni a tutti gli uomini ma screditava lo stesso sacerdozio per inciso proprio quest'ultima triste abitudine ereditata dagli avi di mio padre fece cadere sulla nostra famiglia una maledizione intergenerazionale consistente nell'incapacità di cogliere l'aiuto offerta dal carisma sacerdotale ecco allora amici adesso mi fermo perché qui vedete questa è una cosa grave vedete i comportamenti peccaminosi la devo far far notare allora qui su questo su questo su questo tema maledizione intergenerazionale è chiaramente qualche cosa di brutto di satanico però questo è innescato da questo comportamento gravemente peccaminoso del padre di lei che non soltanto schiacchiera male dei sacerdoti ma getta il discredito sullo stesso sacerdotio è pazzesca questa cosa quest'ultima abitudine malsana ereditata dagli avi di mio padre perché pare che lo facessero anche loro quindi fece cadere sulla nostra famiglia una maledizione intergenerazionale qui cita esodo 25 e 34,7 scusate ma siccome questo argomento è un po' intrigante e interessante andiamo un attimo a vedere questo esodo 25 e 34,7 di che cosa parla non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai perché io sono il signore tuo dio un dio geloso che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e la quarta generazione per coloro che mi odiano interessante e poi esodo 34 4,7 il signore posso davanti a lui proclamando il signore il signore dio misericordioso e piedoso lento all'era ricco di grazia e di fedeltà che conserva il suo favore per mille generazioni che perdona la colpa alla trascrizione del peccato ma non lascia senza punizione che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e quarta generazione sì evidentemente questi brani biblici che parlano di terza e quarta generazione sono in fondamento di questa bruttissima cosa e attenzione che nella saga scrittura c'è questo modo di scrivere che a dio si attribuisce la causa di tutte le cose anche delle cause seconde quasi come se fosse la causa prima io personalmente interpreto questa cosa così cioè il male che si innesca in questo modo qui e che chiaramente poi viene diffuso da satana può andare a colpire fino alla terza e alla quarta generazione quindi dobbiamo starci attenti a queste cose qui perché io tante volte durante le cariche ho detto ragazzi facciamo attenzione a fare i peccati perché noi non sappiamo che cosa inneschiamo ecco questo è un esempio perché questo non si può sapere io tante volte lo dico cioè io non c'ho doni grazie a dio per carità non sono nessuno però cioè si spera che l'intelletto illuminato per la fede ce l'ho se il peccato è il male ed è la fabbrica del male se tu pecchi tu il male lo inneschi cosa e quali sono le conseguenze e qui te l'ha detto cosa una maledizione intergenerazionale e conseguenza di questo incapacità di cogliere l'aiuto offerta dal carisma è terribile quindi mi raccomando pensiamo figlioli miei cari di andare a fare stupidagli io ero sempre più al centro della mia esistenza e il mio prossimo mi interessava sempre di meno se non quelle persone che alimentavano il mio ego indicativo di questo mio cambiamento era la mia abitudine di gettare a terra ovunque fosse le bucce delle banane che mangiava merenda e lo sprecare il cibo nel libro della vita la voce meravigliosa mi fece vedere alcune delle persone che scivolarono sulle mie bucce di banana tra le quali diverse corsero il serio pericolo di resionarsi gravemente e mi fece vedere quanto la mia mamma soffrisse la fame per causa mia queste sono cose sempre un pochino inquietanti noi facciamo gli sciocchi gli stupidi e poi riramba il giorno che il nostro signore ci fa vedere hai visto? tu hai buttato la buccia di banana per terra quello se è assicurato a momenti si rompe l'osso del collo ok se fossimo un pochino più vabbè la mamma morire di fame in che senso la mia mamma molto spesso citava da mangiare i fagioli perché erano molto economici io ne avevo la nausea una volta a gettare la mia porzione di fagioli nel secchio della spazzatura prima che la mia mamma si sedesse a tavolo vedendo che il mio piatto era vuoto la mia mamma pensò che li avessi mangiati velocemente per il mio grande appetito e si privò della sua porzione per far mangiare la sua figlia tanto affamata io non me ne lamentai io me ne lamentai ma mia madre insistette con un dolce sorriso e dovetti mangiare la porzione di fagioli la voce meravigliosa mi fece notare che la mia mamma si era privata del suo sostentamento per me rimanendo con la fame e io invece non mi era accorto di nulla perché ero diventata orribilmente egocentrica e bugiarta la mia mamma come sempre a primi segni del mio comportamento peccaminoso mi correggeva la sua azione pedagogica però veniva ora neutralizzata dalla mia convinzione che lei non mi amasse veramente che non volesse la mia felicità convinzione andata irrobustendosi a causa del rancore per la discriminazione subita al cordeggio discriminazione che in ultima analisi le imputavo dato che lei mi aveva conciato nel modo che le compagnie del collegio ritennero ridicolo hai capito che 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 ricami che intesse quel maledetto delinquente e disgraziato dell'emico della nostra salvezza che roba ecco ecco stavo diventando egocentrica e bugiarda numero uno e poi molto interessante quello che dice lei cominciano a verserlo con la madre quindi dubitare che la mamma l'ama e quindi si taglia il ponte con quella che poteva essere la sua salvezza perché chi è che mi ha conciato in questo modo che mi ha vestito così mia madre e grazie a questo mi hanno massacrato e distrutto quindi mia madre che è la causa di questa mia sofferenza evidentemente non mi vuole bene cari amici nuovo paragrafo conosco Estela si trasferì nel mio collegio una nuova studentessa nonostante fosse palesemente benestante divenne il nuovo bersaglio delle altre bambine del collegio nessuno le rivolgiva la parola e allora si accostò a me ciao io sono Estela la mia prima reazione a quel saluto fu una gosfa esclamazione monosillabica di stupore e paura conseguenza della discriminazione subita aveva però a mio modo rotto il ghiaccio e contribuito a rendere immediatamente palese ciò che ci stava accomunando e Estela divenne la mia migliore amica Estela viveva solo con sua mamma perché suo papà era andato via di casa per seguire la sua giovane amante con me era carinissima mi invitava a uscire con lei pagava tutto lei e mi accompagnava a scuola con la macchina della mamma con i suoi regali poi si comprò l'amicizia di un gruppo di 10 bambine che per suo merito mi accettarono e Estela era ben consapevole che con il suo denaro avrebbe potuto evitarsi il doveroso impegno intellettuale dello studente reduce la diversa espulsione da altri collegi aveva imparato che avrebbe potuto continuare a spassarsela dando nel contempo l'apparenza della studentessa modello solo se fosse riuscita a comprarsi la direttrice del collegio ci provò e nonostante avesse solo 13 anni riuscì a strappare alla direttrice un accordo che la rese complice dei suoi sotterfugi dovendole anticiparle le domande degli esami e coprire le sue essenze ingiustificate la prima volta che stella marinò il collegio il che significava stare a zonzo fino al termine dell'orario scolastico cioè le 16 fu proprio con me la più stupidotta del gruppo nonostante morissi di paura al solo pensiero di farlo mi lasciai convincere da lei a compiere quello che non solo era un atto irresponsabile bensì ciò che si rivelò essere l'atto con cui si inaugurava il rapidissimo processo di smantellamento dei miei valori morali iniziai infatti a stare in compagnia di Estela a preferire stare in compagnia di Estela piuttosto che di Dio della Santa Vergine Maria a percorrere la via proposta a me da Estela piuttosto che quella indicatami da mia madre e confermatami da Dio stesso Estela dunque stava divenendo il mio idolo più stavo con lei e con le mie nuove amiche ricche e più desideravo il loro tenore di vita i cui risvolti negativi mi erano celati dalla loro scintillante apparenza ma più desideravo il loro tenore di vita più perdevo la caparra di pace che il Signore aveva riversato nel mio cuore e provavo frustrazione per non potermelo permettere invece di rendermi conto che avrei potuto riacquistare la pace dando la precedenza a Dio mia vera ricchezza incolpavo la mia mamma della mia frustrazione perché non poteva garantirmi il tenore di vita delle mie amiche finì dunque per non accogliere più le sue correzioni per non avere problemi con lei però fingevo di obbedirle mentre in realtà mi rendevo disponibile a fare quasi tutte le esperienze peccaminose che mi proponevano le mie amiche ed ecco qui amici cari il tema e anche qui genitori siano attenti delle cattive compagnie e poi vedete la la gravità di certi atti no? marinare la scuola c'ha un nome un po' più feriale che preferisco non dire perché credo che sia al limite della decenza e poi l'idolatria delle creature l'amico che prende il posto del del padre eterno e quindi si cominciano a seguire guardate che i ragazzini i genitori li devono aiutare non possono abbandonare devono essere vigilanti devono essere vigilanti i figli amici cari e non fare la solita cosa che fanno tutti i genitori i genitori sentono questa roba guarda quante cose brutte che possono succedere però a mio figlio no a mia figlia no chi l'ha detto che a tuo figlio no a tua figlia no io te lo auguro ma a tuo figlio e a tua figlia sì se tu non vigile stai attento attenta oggi più che mai allora mio padre mi insegnò a mentire non mi era affatto difficile mentire a mia madre fu mio padre a insegnarmi la facile scappatoia della menzogna dandomene l'esempio la prima menzogna che dissi fu proprio per sua diretta esticazione come vidi nel libro della vita avevano bussato alla porta dei creditori mio padre non sapendo di che saldare il suo debito invece di affrontarlo o di non rispondere si nascosa in casa e mi ordinò di assicurare i suoi creditori della sua assenza eppure crescendo mio padre mi castigava quando scopriva le mie bugie però gliela ha insegnato lui a mentire anche questo ne ho parlato recentemente durante è materia fresca perché proprio in questi giorni ho corretto l'ottavo comandamento appunto per non dire falsa testimonianza le bugie le bugie non si dicono mai tuo padre dice di dirla e non la puoi dire il peccato volontario non si deve fare mai per nessun motivo se ti fanno una domanda o una provocazione diretta tu devi sempre trovare il modo di dire il vero senza dire tutto se a una segretaria l'avvocato ti dice se suonano digli che non ci sto digli che non ci sto è peccato la segretaria si prenderà la responsabilità di dire in questo momento l'avvocato è occupato che sia occupato non è una menzogna perché l'avvocato è occupato capite no? la menzogna non è mai cosa utile né giovevole sembra come tutte le cose ci sai oh il modo di una bugia è piccola è di scusa così mi levo questo problema e mi levo questa situazione dai piedi no? ma non funziona così l'occultismo e adesso che cosa cominciano a fare io e le mie nuove amiche iniziamo per gioco e curiosità a fare delle sedute spiritiche tra una risata e uno scherzo cercavamo di fare esattamente come avevamo letto nei libri evocavamo un'entità poggiavamo l'indice della mano destra sul bicchierino rovesciato posto sulla tavola o uia e ponevamo delle domande all'entità evocata quale fu il nostro stupore quando effettivamente il bicchierino iniziò a muoversi la verista Rauto è una probabile comunicazione mediana ci diede una scarica adrenalinica provammo brividi di piacere e paura che uniti alla nostra incoscienza ci indussero a voler continuare il nostro gioco pur ignorandone le controindicazioni e ad approfondire la conoscenza dell'occultismo per riprovare le stesse emozioni questa è un'altra cosa molto diffusa nell'ambito infantile lo fanno per gioco però capite i bambini giocano ma gli spiriti non giocano chi avesse visto il mitico film di William Fredklin del 74 che non ricordo male 78 comunque l'esorcista ricorderà che la bambina la bambina posseduta poi in quel modo terrificante perché insomma era un film ma un film dove ci sono diciamo così gli effetti horror no quindi sono caricate parecchio alcune cose che comunque per questi casi hanno un fondamento anche reale no ma la bambina in forma faceva le sedute spiritiche e diceva che parlava a un capitangaglio lo ricordo benissimo e la mamma che era attiva dice ma chi è sto capitangaglio pensava pensava fosse un gioco innocente di una di una bambina e invece quindi queste le porte che aprono queste robe qui sono assai pericolose alcune mie amiche iniziarono a frequentare un indovino e vogliono condividere con me la loro esperienza eccitante perché non provare pensare in fin dei conti ci si diverte fin tanto che ci si diverte non ci può capitare nulla di male pensa che ragionamento con tutto rispetto per Gloria Polo da scienziata animata da questa illusione adolescenziale accettare l'invito ebbene nel libro della vita vedi che per i miei i riti divinatori eseguiti dalla strega la bestia infernale ebbe il potere di accecarmi spiritualmente e di indebolire la mia volontà per fare il bene ecco un'altra rivelazione così il titolo di questa di questa puntata è bello che è chiaro alcuni esempi degli effetti devastanti dei peccati commessi io cercherò di impararmeli a memoria così quando dovrò ridire che i peccati producono degli effetti se me li imparo a memoria almeno questi due li posso dire ma vi rendete conto che roba cioè le divinazioni effettuate da questa strega hanno dato alla bestia infernale il potere di accecarmi spiritualmente è una cosa gravissima è di indebolire la mia volontà nel fare il bene quindi non è non sono cose innocue queste qui adesso scusate oggi il 20 ottobre no tra poco ricomincia non la pagliacciata magari fosse una pagliacciata macabra ricomincia il rituale a cielo aperto di halloween e ricomincia una montagna di sciocchi genitori a mandarci tranquillamente i figli scrollendo le spalle dice vabbè ma tanto che vuoi che sia queste cose non è ma tanto che vuoi che sia adesso qui abbiamo una rivelazione esplicita che dice che stabilisce il rapporto di causa no questa azione questa è la conseguenza ma in tutte le altre non ce l'abbiamo domanda che succederà a un ragazzino che partecipa a Halloween sentiamo ma niente non ha queste robe da da bigotti da da talebani così disse la padre ha morto quando moriva con buon animo quando morita Halloween è arrivato il talebano è arrivato ci sono le classiche frasi guardate che queste frasi sono micidiane sono talebano integralista esagerato ecco sapete come si esce da queste cose sapete anche perché io tante volte ho avuto come dire forse il coraggio di dire certe cose perché durante i primi anni soprattutto di seminario mi sono fatto un'overdose di scritte e di vite dei santi quindi avendo visto quello che hanno fatto e detto i santi io mi sentivo abbastanza sicuro io non sono certamente santo come loro d'accordo però se un santo dice questo io lo do per buono io lo do per buono quindi potere di accecarmi spiritualmente e di nembolire la mia volontà nel fare il bene avevo dunque aperto le porte alla bestia infernale e non me ne ero nemmeno accorta non collegai a quelle visione delle mie susseguenti e nuove difficoltà da me riscontrate nella recita del padre nostro aperta la porta a satana e non se ne erano nemmeno accorto questo è il punto drammatico che quando noi apriamo le porte a satana arrivano anche degli effetti micidiali non ce ne accorgiamo ma gli effetti micidiali arrivano però e come poi una volta che sono arrivati si lo posso convertire è certo che ti vuoi convertire ma se lo vuole puoi per sistemare le cose no la pornografia e l'abbandono quasi totale della confessione sacramentale guardate la 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 sequenza quindi abbiamo cominciato con attenzione la frequentazione apparentemente innocua di questa amica questa amica allarga il gruppo e andiamo a finire a 10 ok nel frattempo si copa l'odio verso la mamma perché meno male che arrivava da questa questa tizia questa estela altrimenti si è rimasta da solo perché mi ha mandato a casa a scuola vestita come una pezzente dopodiché si allarga il gruppo a caso dei soldi la rovina dell'umanità di questa e cominciano prima le salute spiritiche e poi addirittura le streghe e adesso e adesso c'è sempre la solita cosa perché il diavolo su questo non manca mai l'obiettivo quindi la pornografia e l'abbandono quasi totale della confessione sacramentale la mia mamma sottolineandomi che Maria Santissima proprio per la sua verginità pote godere di un'unione sponsale con lo spirito santo mi esortava spesso a custodire la mia verginità con la virtù della castità riuscì con la sua perseveranza a radicare profondamente in me la volontà di custodire questo mio stato e a tenere vivo il mio senso del pudore i genitori su questo guai a loro se non sono esemplari guai certamente che poi una persona crescendo può anche andare a andare all'ortica gli insegnamenti di seguri ma guai rimanere vergini è fondamentale qualunque cosa si faccia nella vita ti sposi ci arrivi vergine ti fai prete frate o suola ci arrivi vergine rimani nella vita laicale come l'offerta della della toglia dal signore la rimani nello stato della verginità quando dunque Estela mi confidò che la sua mamma l'aveva portata dal ginecologo per farle prescrivere la pillola anticoncezionale a me fino a quel momento completamente sconosciuta e che aveva già avuto svariati rapporti sessuali occasionali con diverse persone tra cui anche il suo cugino e un amico io non rimasi scandalizzata le madri che portano le figlie a prendere la pillola sapeste quanti non sentite o i padri che comprano i preservativi scusatemi il termine ai figli maschi ma io dico ma questa ma dico ma che cosa gli frulla per la testa sta gente qui ma lo sanno questi guai che passeranno dinanzi alla divina giustizia e voglio ben sperare che se qualcuno l'ha fatto vada di corsa a confessarlo Gesù ha detto nel Vangelo guai a chi scandalizza uno di questi piccoli che credono sarebbe meglio che gli fosse messo una macina da murino al collo e fosse gettato nel mare cioè già sti fuori ragazzini oggi poi immaginiamo questo si sta passavano al 1971 hanno in cui sono nato io io tengo 52 anni e già c'erano queste robe figuriamoci adesso guardate veramente qua padre Pio diceva verrà una generazione di genitori incapaci di educare figli non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti vabbè quindi questa aveva già avuto 13 anni farfallona in giro a destra e a manca con tizio che ho sempre occasionali con diverse persone cugino e amico ok vedete le cattive compagnie questa questa è stela vi faccio una domanda chi gliela ha mandata a stela a gloria por chi gliela ha mandata andiamo a mandarla al diamo il signore l'ha permesso perché lei doveva resistere a questa tentazione e trovarci confermata in grazia non ha resistito guardiamo sempre che sia per i matrimoni sia per l'amicizia vale sempre il popolar proverbio che è meglio soli che mai accompagnati le mie amiche però a loro volta disgustate dalla mia ignoranza sessuale vogliono portarmi ad apprendere il sesso laddove tutte loro lo avevano appreso e cioè in un lurido teatro del centro di Bogotà specializzato nella proiezione di film pornografici accecata spiritualmente indeborita nella mia volontà nel fare il bene della travesi infernale perché indeborita perché era stata dalla strega alla quale aveva aperto le porte con il ricorso alla divinazione considerai che sarebbe stato meglio accettare piuttosto che ripiombare in quello che sproporzionatamente con la vera realtà infernale consideravo l'inferno della discriminazione e dell'isolamento capite il processo altro processo psicologico questi mi invitano a vedere il film a luci rossa se io gli dico già mi stanno già mi stanno bullizzando perché queste sono tutte quante navigate io non capisco niente di questa roba qui ah se non ci valo è la fine capite che che razza di 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 cose quanti ragazzi si sono rovinati ragazze per questo motivo e quanti genitori devono essere forti a insegnargli queste cose cercare possibilmente di preservarli dai contatti con le cattive amicizie procurare se è possibile di farli stare in un ambiente dove possono conoscere qualcosa di buono oggi bisogna fare massima attenzione lo sto dicendo già diverse volte ma con le scuole pubbliche a me dispiace dire queste cose qui non voglio mettere come dice San Paolo i lacci sulle coscienze delle persone e farle sentire male lungi da me ma domando a voi ma come fa oggi un ragazzino a non essere contaminato a non andarsi almeno in parte a compromettere nel contesto di una scuola pubblica non solo per per il fatto che la stragrande maggioranza dei compagni stante il clima che sta in giro saranno praticamente atei ma anche i programmi che adesso insegnano i valori gli pseudo valori che trasmettono allora continuo non mi resi conto che stavo svendendo la mia anima a me che non avevo la televisione in casa in aggiunta avevo come ho già detto uno spiccato senso del pudore la vista di quel film pornografico mi dava un estremo imbarazzo nell'intento di evitarmi l'inferno della discriminazione e dell'isolamento ero piombata proprio in un inferno anticipato volevo scappare dal cinema più forte del mio pudore però fu ancora una volta il timore di essere considerata dalle mie amiche indegne della loro amicizia e allora rimasi seduta sulla squallida poltroncina del cinema come se stessi sui braci ardenti se ne volevo andare dice no ma se me ne vado mi prendono in giro e rimango mi prendono in giro vale questo fatto dell'essere presi in giro vale anche da grandi io ho sentito con fratelli raccontare che quando cominciarono le mode del disprezzo della veste talare qualcuno ha resistito all'origine quindi sto parlando della metà degli anni 60 io ho sentito queste cose da sacerdoti anziani dopodiché chi manteneva la veste veniva distrutto ridicolizzato se qualcuno portava ancora il cappello romano il cosiddetto Saturno cioè lo proprio massacravano un sacerdote mi dice io ho buttato il Saturno per disperazione perché tutti mi prendevano in giro ho preso e l'ho dovuto mettere al secchio lo dico a noi grandi molto attinente anche con l'omelia che ho fatto questa sera perché qui c'entra di mezzo il rispetto umano il temere gli uomini noi non possiamo che cosa sta facendo questa ragazza per carità non vogliamo giudicare assolutamente stiamo parlando di comportamenti oggettivi per compiacere le creature sta accettando di fare un peccato mortale questo non si può fare ma se non lo faccio rimango da solo e rimani da solo rimani da solo rimani da solo cioè se uno sacerdote non si mette la veste talare perché c'ha paura di essere preso in giro solo per questo magari se la pure metterebbe oppure c'ha paura che se mettono la veste talare e poi però e poi però mi sa che incarichi ecclesiali e allora allora dopo aver visto quel film andai in chiesa con la mia mamma e ne approfittai per confessarmi immediatamente la sacerdote con il quale ero solida confessarmi in bocata avevo un mio estremo bisogno di togliermi il tizzone ardente che mi bruciava nella mia coscienza qualsiasi notte era abituato a sentirmi confessare i peccati di bambina in germa come per esempio non ho fatto i compiti quando invece mi senti dire mi perdoni padre ho marinato la scuola per andare al cinema quindi capite due l'hanno fatta insieme sono andato a vedere questa monnezza il giorno in cui avevano marinato la scuola sbalordito e ad alta voce mi domandò che cosa hai marinato che cosa oh cavolo pensai se lo sente la mamma sono guai non ebbi allora il coraggio di dirgli altro ricevetti la soluzione e uscì dal confessionale però com'è questa confessione sacrile allontanandomi però pensai lanciandogli uno sguardo torvo da sopra alla mia spalla si è scandalizzato solo al solo pensiero che fossi andato al cinema e che avrebbe fatto se gli avessi confessato quale genere di film avevo visto da allora presi dapprima l'abitudine a fare confessioni parziali prive di contrizione e fermo proposito di ammetta e poi allorché un sacerdote mi fece infuriare per avermi ripreso non mi confessai più sacramentalmente salvo rarissime eccezioni ecco qua cominciamo con le confessioni sacrileche con la piaga delle confessioni sacrileche e quando ero più giovane ho fatto certe catechesi su questo su questo tema che adesso stiamo cercando un pochettino di riportare a galla andando a prendere dalle dagli archivi degli anni 2012 2013 le confessioni sacrileche parziali o senza nessuna contrizione meglio non confessarsi piuttosto che fare una confessione sacrileche un sacerdote la rimprovera lascia la confessione non aveva più senso bene confessarmi da sacerdote che per quanto ho detto mi dalle mie amiche riterò ormai tutti omosessuali ladri ipocriti che fingono scandalo per chi marina il collegio per andare a vedere un film mi confessavo da sola con me stesso senza rendermi conto che queste confessioni solitarie divennero un insulto a Dio si confessava sola come fanno in tanti signore dicevo pare che tu abbia voluto vendicarti di me dannomi questa mamma così fuori moda è così antiquata che mi sembra la madre di Fred Flintstone non mi lascia vivere la vita non posso andare da nessuna parte e adesso per colpa sua mi ritrovo a 13 anni senza un fidanzato senza parlare del fatto che è povere che per lei ogni mio divertimento è peccato avete visto come sarà intortata bene il diavolo a che punto siamo arrivati la mamma fuori moda sembra la mamma di Fred Flintstone penso che tutti i gatti conosciamo Fred Flintstone non mi lascia vivere la vita povera me non posso andare da nessuna parte e a 13 anni sto senza fidanzato ho 13 anni senza fidanzato mi lodevo di essere più via che mai mentre in realtà satana mi aveva fatto scacco matto eccolo qua abbiamo seguito le borbelsi no? avevo solo 13 anni ed ero già un cadavere vivente perché permanevano il mio peccato il peccato in tutte le sue forme è odio il figlio che non rispetta i genitori e le opprime di pretese di egoismo colui che nuoce al suo prossimo con la violenza il furto la calunnia l'adulterio è suicida e omicida uccidendo con l'odio la propria anima e quella altrui se avessi non dico amato ma voluto amare Dio sopra ogni cosa me stessa dopo Dio e in Dio e il prossimo come me stessa mi sarei allora confessato e Dio che rientra con l'amore nelle anime morte avrebbe riportato la mia anima morta a vita per l'amore cosa viene dopo le confessioni sacrileche come conseguenza ovvia la comunione sacrileca perché se mi sono confessato anche se mi sono confessato in parte è chiaro cosa fa la comunione no? quando la mia mamma si rese conto questo è proprio il paragrafo intitolato sacrileggi eucaristici e realizzazione di una mia impregazione quando mia mamma si rese conto del mio cambiamento me lo fece subito notare dicendomi figlia mia stai cambiando i tuoi occhi sono diversi ricordati del peccato mortale non lasciarti uccidere l'anima uccidere l'anima non voglio ammettere il mio cambiamento non solo tacco ciò che l'era nascosto e ciò che ero e ciò che ero diventata bugiarda per nascondere i vizi del fumo di siga garetta tanto avevamo già cominciato dell'alcol e della visione dei film pornografici vedete alcol fumo e sesso le mie pratiche occulte e la frequentazione di feste collegiane nel tempo in cui ero dovuto applicarmi al doveroso studio ma non ammisi nemmeno l'evidenza e che cioè avendo perso la purezza sebbene ancora non la virginità si era fiorito in me il senso del pudore e avevo smarrito la modestia anche perdere la purezza è una cosa grave fece ancora peggio continuai a simulare la mia religiosità e il mio stato di grazia partecipavo allora alla santa messa e mi comunicavo mettendo però la previa confessione sacramentale oppure dopo qualcuna di quelle confessioni fatte in quel modo le mie comunioni sacrile che mi sigillarono nel peccato e fecero sì che la mia anima di bambina beneficata da una profonda relazione con Dio potesse rimanere morta la voce meravigliosa a commento di questa scena impietosa scritta nel libro della vita tu o no chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue indegnamente mangia e beve la propria condanna oggi figlioli miei cari anche qui ci ho fatto credo anche un articolo del blog la piaga delle comunioni sacrile oggi è un'ecatombe oggi è una ecatombe ci sono delle circostanze in cui i sacerdoti celebranti devono ammonire i presenti io ricordo benissimo quando uscì era un prete abbastanza ancora non dico novello ma alle prime armi e io mi rendevo conto ecco in primi tempi tu c'eravi un funerale specialmente quando era ancora viceparroco quindi che non può gestire nessuno risponde e la comunione vanno quasi tutti dico ma stiamo scherzando ma non è che figuratevi se un prete non è contento se le persone fanno la comunione ma non può essere deficiente se una persona non risponde ammessa ma che comunione come si va a fare un prete è contento se si fanno sante comunioni non se si fanno sacrileggi dicono come si fa come non si fa questi stanno in funerale poi se tu dici qualcosa questi si offendono che una persona chiara è morta papa benedetto che era molto sensibile al tema dell'eucaristia come tutti quanti sappiamo nell'encirca Deus Caritas io non ricordo c'era un paragrafo quando si parla proprio della santa comunione dice i parroci in cura d'anima e devono fare attenzione che quando ci sono circostanze tipo matrimonio o funerali in cui vengono in chiesa gente che non ci mette mai piede devono trovare il modo il momento e la forma delicata quanto si vuole ma per dire per ricordare le condizioni per accostarsi alla santa comunione soprattutto gli estri confessati io questo lo faccio sempre ho proprio scritto delle didascalie che c'è un lettore che al momento opportuno le legge perché si deve fare così perché la comunione sacrilega allora io personalmente non c'è niente che produce tanto male quanto la comunione sacrilega dato che stiamo vicini a Halloween i riti neri sono orge all'interno delle quali si compiono orribili profanazioni eucaristiche dentro quel contesto tutto qui i peccati non confessati come virus letali iniziarono a vivere stabilmente a me fino a indurmi a dire con sfacciataggine alla mia mamma ma come puoi mamma pensare che sia cambiata e che non stia in grazia vedi che continua a comunicarmi ma tu guarda la ragazzina che fa la comunione per convincere la madre che sta vivendo ancora bene che va tutto bene e che vogliamo fare mia mamma non si lasciava però persuadere da queste mie menzogne perché aveva davanti agli occhi gli evidenti segni del mio cambiamento mi giochè allora la carta del giuramento imprecatorio per avallare le mie menzogne dicendo baciando i miei indici posti a croce le dissi te lo giuro che mi colpisca un fulmine se sto dicendo bugie mi fa pensare a qualcosa e la voce meravigliosa che presiedeva l'esame della mia vita nell'orri di voragine in cui mi trovavo ancora a testa e giù mi indicò che la mia parola aveva avuto un potere e che essa si era pienamente realizzata nella mia focorazione figlioli mei cari io con questo concludiamo che siamo arrivati da mano ma vi rendete conto cioè questo è stato a momenti ammazzato da un fulmine per un falso giuramento unito a un'imprecazione te lo giuro che mi colpisca un fulmine e sto dicendo bugie misericordia le impregazioni non si mandano né a se stessi né al prossimo perché sono cose pericolose ecco va bene amici direi che possiamo fermarci e aggiornarci alla prossima puntata meditiamo dopo veramente a parte questo 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 questa progressiva discesa libera d'accordo prima si va sul piano inclinato poi c'è a froverbia motus infine veloci il movimento diventa più veloce alla fine della corsa su un piano inclinato però cerchiamo anche di riflettere sulle devastanti conseguenze dei peccati commesi specialmente di alcuni peccati che Dio vi benedica la Santa Vergine sempre a tutti vi protegga grazie grazie grazie